tutti i ragazzi hanno un mondo nel cuore ma per qualcuno è un mondo chiuso in uno scrigno per loro un vostro piccolo gesto può diventare una grande magia ci sono piccoli gesti che segnano l'inizio di grandi avventure ci sono piccoli gesti che aprono orizzonti ci sono piccoli gesti che segnano un cammino ci sono piccoli gesti che liberano un mondo con il vostro gesto avete aperto quello scrigno avete liberato il mondo delle fate